Buongiorno Allora la carta è dentro da qualche parte Giusto? Dove sei? Sarà in mezzo Giusto? Diminemolo Tre Cinque Un attacco Questa è questa quinta? Mentre l'altro Cinque Questa è Questa è questa quinta Questa è quella Adesso vediamo Giro Ci sono 200€ a testa Grazie Grazie Ciao ragazze Un piacere Grazie.